La mostra d'oltremare è pronta ad ospitare dal 7 al 30 dicembre il più grande villaggio natalizio della città. Uno scenario fiabesco, oltre 300 abeti ed attrazioni luminose realizzate con 300.000 led faranno da cornici ad un programma di eventi che quest'anno si annuncia ancora più ricco. Noi contiamo circa 200.000 visitatori anche perché Christmas Village si pone un grande attrattore turistico, abbiamo fatto anche degli accordi con federalberghi e quant'altro in modo tale di agevolare i tanti turisti presenti in città di visitare il nostro villaggio. Un intero padiglione sarà inoltre dedicato con diversi eventi alla solidarietà e al sostegno delle donne vittime di violenza. Ci fa piacere che si svolga anche quest'anno e posso dire ci fa anche piacere che si svolga la mostra d'oltremare perché sempre di più la mostra è il sito per le fiere anche per grandi eventi che sono riferimento per un pubblico molto numeroso. Due aree market saranno allestite in tipiche casette in legno e lungo il viale delle 28 fontane ma il Christmas Village si estende nell'intera area esterna di oltre 20.000 metri quadrati della mostra d'oltremare ed accoglie una pista di pattinaggio, un'area food, il palco eventi, laboratori didattici ed aree di intrattenimento e spettacolo. Vedremo un villaggio molto più grande con molte proposte di luminarie. Tutte le informazioni sono sul sito christmasvillage.it, ci sono quattro baby youtuber molto famosi e molto attesi da tutti i bambini da tutte le parti d'Italia.